Sarebbe stato arrestato il generale Ivan Popov, che era il generale russo tra i principali comandanti delle forze russe che hanno invaso il territorio ucraino, le cose però sembrano essere cambiate per lui. L'estate passata ci fu un enorme scarpone, un file audio in cui, diciamo così, il generale identifica come il generale Popov avrebbe raccontato di essere stato rimosso dal comando della 58esima armata perché avrebbe denunciato ai suoi superiori la terribile e non fettevastante situazione del fronte, morti, feriti, in massa avrebbe dichiarato tra le truppe del Clemino un sostegno di artiglieria che sarebbe stato, secondo la sua opinione, non adeguato, inadeguato. Va bene? Insomma, una vicenda incredibile, quella che riguarda l'appunto Ivan Popov, il quale sarebbe stato arrestato, ripeto, di nuovo, pur ma lo sappiamo, insomma, no? Gli arresti di interitori dell'Europa dell'est, ci sono Russia, Kraina o Davide Benesiglio. A volte il regime può piegare la vita di altre persone, come nel caso di specie. Grazie a tutti, il video termina qua. Ciao.